Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradaria regionale. In Cipili per lavori un chilometro di coda verso Firenze tra Empoli e Montelupo, per gli stessi lavori l'entrata di Empoli Est verso Firenze è chiusa fino al 28 novembre. Per traffico intenso trovi inoltre rallentamenti tra Biodiramazione Pisa, SGC, Cipili e Pisa Nord-Est nelle due direzioni. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali su gran parte delle strade della Toscana. Tutte loro i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, domani torna la Firenze Marathon. Attenzione ai provvedimenti di traffico privato e alle modifiche del servizio di autolinea toscane della linea T2 della tramvia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.